Il progetto per un campo adatto al rugby sembra essere un'utopia, ancora nessuna risposta dal Comune riguardo la realizzazione dello stesso. Ai nostri microfoni il neopresidente della Amatori Taranto Rugby, Ivan Zaccaria. L'ennesimo caso di silenzio assordante delle istituzioni, l'inerzia del Comune di Taranto e dell'assessorato allo sport ci ha condotti a perdere dei fondi che venivano concessi dalla Federazione Italiana Rugby a fondo perduto, e parliamo di 120 mila euro, e ci ha portati anche alla perdita di un bando per il credito sportivo cui doveva accedere il Comune di Taranto nel nostro interesse che scadeva il 15 luglio. Parliamo di 150 mila euro che sommati ai 120 della Federazione avrebbero consentito non solo alla Amatori Taranto Rugby ma anche ad altre realtà sportive di Taranto e provincia, parliamo del baseball, del football americano e di altre società di rugby, del panorama sportivo ionico. ha proibito a queste società di avere una struttura sportiva adeguata in città faccio presente che noi come Amatori Taranto Rugby ma anche altre società siamo costretti a girovagare per la provincia facendo parecchi chilometri e dovendoci adattare a delle strutture della provincia non adeguate alla preparazione e all'allenamento di uno sport duro come il nostro. A questo punto l'unico strumento che ci è rimasto è protestare e contestare contro quello che è accaduto in questi mesi con un'inerzia delle istituzioni che ci ha portati ad un limbo che ancora oggi non sappiamo dove ci condurrà quindi siamo in attesa di ulteriori risposte ma non demordiamo e vorremmo combattere per ottenere quello che ci compite. Le promesse non ci bastano più.